Facciamo una pranzia a franco per le sestre. No, 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 va bene. Bravo, signor. Quindi è molto bello che anche il liceo abbia contribuito al ricordo del priminguerra studente, del priminguerra cittadino, così come è stato fatto per l'intellettuale e comunque per l'uomo, per il sassarese, con tutto l'affetto che la città, la Sardegna e la nazione tutta sicuramente ha sempre tributato. Quindi io vi ringrazio, vi ringrazio davvero tanto. La frase ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno, ma non lo so. Da dirigente di questo liceo non posso che essere felice. Uno, che i nostri studenti possano interrogarsi, anche più piccoli, su chi quest'uomo fosse e due, abbiano questa frase davanti agli occhi per tutto il tempo che seguiamo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.